Musica Prima che il suo armonizzare i tempi diventi un mantra Un mantra? Un mantra, sì, un mantra, presidente, sia chiaro Vorrei richiamare Vorrei dare facoltà che non ho Vabbè, probabilmente se la, giustamente se la vuole costruire questa facoltà Ha giustamente richiamato il senatore Gianrusso, prima, che esponeva un cartello Sul quale c'era scritto, chiaramente, riduzione delle pene del 40% Dopo che questo testo di legge è stato cassato alla Camera Ma mi chiedo sull'ordine dei lavori Dovesse ricomparire quel cartello? E' meglio che non lo facciamo comparire perché siamo in difetto noi O perché magari mentre lo guardava avrebbe voluto in cuor suo esporlo lei, quel cartello Questo mi chiedo Poi magari una risposta ce la daremo Il mio mantra non mi consente di risponderle Prego Il mio mantra non mi consente di risponderle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti